Amami, senza interruzioni, guardami, sono pieno di emozioni. Prendile, mentre vibrano nell'aria, fa le tue, e se vuoi, guidile con me. Signori, buon pomeriggio a tutti quanti sintonizzati con la nostra radio, al quale porta nome di Radio Caserta Web, che logicamente dico sempre, ricordo sempre, che potete ascoltarla sia sul sito web radiocasertaweb.it, sia sul vostro telefonino, basta scaricare l'app Radio Caserta Web. Quest'oggi è un fuori programma perché dobbiamo annunciare una cosa molto, molto importante, che si terrà a Caserta, l'associazione L'Ancora, l'associazione di promozione sociale, è un'associazione che si occupa, per quanto riguarda, per disabili e così via, l'associazione cultura di promozione sociale, L'Ancora, sede legale e sede operativa in via Lavarelli, Pitti, numero 17, 52, 100 Arezzo. Quindi, cosa è successo? Ve lo dico subito. La nostra associazione, o meglio dire, l'associazione L'Ancora, la nostra perché in questo caso stiamo collaborando nel senso buono con questa magnifica associazione, ha organizzato per il giorno 9 di gennaio, quindi domani giorno 9, ha organizzato alle ore 20, in collaborazione con l'Hotel Plaza di Caserta, di Pepo ha organizzato una cena di beneficenza per raccogliere fondi per il progetto Viaggiare Disabili, anno 2015. Durante la cena saranno presenti i vari progetti che Viaggiare Disabili ha in programma per il 2015 e saranno estratti a sorte vari premi offerti da partner e sponsor. Il contributo per la cena di beneficenza è di 40 euro per adulti e 15 euro per i bambini. Alle ore 16 è prevista la presentazione del libro Il tuo nome è Francesco, dello scrittore Fabio Salvatore. Ecco alcuni dei premi che saranno sorteggiati tra partecipanti della cena del 9 gennaio a Caserta. Un PC portatile Acer, una stampante Epson, un weekend in Valle d'Aosta presso Hotel Zerbion, un ingresso alla spa di Marina di Castello Resort, alcune bottiglie di vino, altri premi sono in arrivo. In omaggio a tutti i partecipanti anche un carnet di buoni sconto su una serie di attività e servizi su Caserta. Potete aderire entro e non oltre il 7 di gennaio 2015, sarebbe entro questa sera, ma anche domani mattina siete ben accettati, regandovi presso l'Hotel Plaza di Caserta, scrivendo a segreteria chiocciola viaggiaredisabili.com oppure italiaaccessibilechiocciolagigmail.com Il numero da poter telefonare è 377 44 1 3 3 2 3 Evento Facebook è www.facebook.com Splash Event Splash 87 82 35 80 55 43 7 0 4 Il sito visibile è www.viaggiaredisabili.com Si ricorda che per chi volesse fare un tour per persone con disabilità presso la regia di Caserta è disponibile il servizio di accompagnamento graduito messo a disposizione dal progetto Sit in Caserta. Prenotazione obbligatoria e servizio è disponibile solo la mattina fino alle ore 14. Per ulteriore informazione e prenotazione www.casertaaccessibile.it Oppure turismocaserta.it Ospite della serata per quanto riguarda questo magnifico incontro, evento dell'Associazione L'Ancora il cantautore casertano Alfio B. Intanto ascoltiamo Alfio B con il brano Amami Grazie a tutti Cerca di respirare ogni profumo Non lasciarne mai andar via nessuno Tieni di stretta forte alla tua vita Che con me non sarà mai più in salita Lasciami Disegnarti il corpo Resta lì Non sarà mai scuro in volto Prenditi Ogni attimo è silenzio Credi in me Credi in me Credi in me Credi in me Sarà in te E sarò il tuo senso Non sarà mai scuro in volto Prenditi Ogni attimo è silenzio Credi in me Credi in me Sarà in te E sarò il tuo senso E sarò il tuo senso E sarò il tuo senso Cosa è il tuo senso Cosa è il tuo senso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti